Ma la sfilicuda della sbrindolona, come se fosse altra, come faceva? Predo? Ho provato con super cazzo, era con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Faceva dudu. In che senso? Nel senso anafestico. Eh sì, forse per handicap di altitudine, no? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? No, no, non era troppo alto. E forse non hai capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, col dito come se fosse andando su o giù, giù o su, seguo col dito. Vede, se va giù non va su, se va su non va giù.